La Telis sta spostando le produzioni al nord Italia. Nuova crisi occupazionale a Pagani, a rischio il lavoro dei 30 operai ex Finmec di Via Filettine. L'azienda sta spostando altrove macchinari e produzioni, un trasferimento avviato da qualche settimana, prima alcune apparecchiature, poi la commessa dei contatori bifase e infine quella per la riparazione dei telefoni telecom. A Pagani resta per ora solo la produzione di alcuni contatori monofase. Un depauperamento che per gli operai già in cassa integrazione potrebbe dire licenziamento. C'è poi il problema mensilità arretrate, ne sono maturate ben tre e il mancato versamento dei contributi al fondo pensionistico privato dei dipendenti. Insomma, una situazione molto compromessa, per questo gli operai chiedono l'attenzione delle istituzioni. Le preoccupazioni rimangono quelle che possono portare il lavoro altrove. Diciamo che le istanze dei lavoratori sono soprattutto quelle di capire che intenzione ha l'azienda, per cui ci sono state anche delle risposte per picche, in quanto alla legittima richiesta di alcuni lavoratori di sapere, insomma, per le spettanze arretrate e per quanto riguarda il lavoro futuro di questa azienda. Insomma, sono state fatte delle lettere di contestazione e anche un licenziamento purtroppo. Siamo dispiaciuti di quello che è successo, siamo in attesa di sviluppi, cerchiamo di capire dove ci vuole portare questa azienda.